Il 10 luglio a Chieti si terrà la notte dei saldi, una scelta fortemente voluta dall'amministrazione comunale assessore e che ha trovato ovviamente il pieno appoggio delle associazioni di categoria tutte. Assolutamente, la notte del commercio che abbiamo voluto organizzare di concerto con la categoria all'interno chiaramente dei saldi estivi, abbiamo individuato questa data di concerto con la categoria, è un modo per rimettere al centro le attività commerciali in questo momento così importante di ripartenza. Non sarà la classica notte bianca perché gli eventi saranno rappresentati dai negozi stessi, ossia tante attività commerciali già hanno palesato la volontà in quella serata di organizzare all'interno della propria attività iniziative che possano essere di interesse, come per esempio la prestazione di un libro piuttosto che occasioni conviviali. L'obiettivo è quello di far sì che le persone che saranno in strada quella sera girino e visitino i negozi della città. Ma ci sembrava un modo appunto per essere ancora una volta supportivi nei confronti del commercio, il tutto all'interno del Compra Tiratino, un'iniziativa che proprio in queste settimane si accinge alla fase operativa. Abbiamo peraltro individuato questa data anche finché non ci fossero analoghe iniziative in Comune Limitrofi, quindi soprattutto in quella serata richiamiamo i cittadini a girare la città, a visitare la città, a visitare i negozi della città e cerchiamo anche di essere attrattivi nei confronti dei nostri comuni vicini. Insomma, noi vogliamo veramente far sì che il commercio rivicinato possa tornare ad avere quel ruolo che aveva tanti anni fa e che purtroppo anche in virtù della pandemia è stato purtroppo messo in secondo piano dalle piattaforme telematiche. Noi dobbiamo riportare le persone a comprare nei negozi di Chieti. I negozi saranno aperti fino alla mezzanotte ma poi ovviamente la cosa bella ed importante sarà proprio il connubio tra anche alcune delle iniziative che comunque sono parte del cartellone estivo degli eventi, tipo per esempio il 10 luglio c'è un evento all'ex pescheria. Insomma, riteniamo che sia un modo veramente per far sì che in quella sera i negozi possano essere però il centro della vita notturna di Chieti. Grazie.